Ma secondo me devono coesistere, un'industria esiste se fa un prodotto che ha un concetto di qualità, di manifattura in qualche maniera originale, in qualche maniera può competere sul mercato, in qualche maniera che fa qualche prodotto che altri non sono capaci di fare. Devono per forza coesistere e più sono compenetrati più diciamo risultato di successo. Un'industria non fa niente altro che una produzione seriale di un prodotto progettato artigianalmente.